Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare. Oggi, 19 ottobre 2050, vediamo insieme le condizioni del tempo previste per i prossimi sette giorni sulla nostra penisola. Come di consueto, ci affidiamo al monitoraggio dell'atmosfera che l'Aeronautica Militare realizza attraverso l'impiego delle più avanzate tecnologie. Le informazioni ci giungono da tutte le stazioni meteomondiali, dalla costellazione dei satelliti meteorologici e da altre piattaforme di raccolta dati al suolo e in quota. Tutte queste informazioni giungono continuamente al centro di elaborazioni dove risiede il nostro ipercomputer Leonardo. Ma colleghiamoci proprio con il nostro amico Leonardo e sentiamo da lui cosa ci riserva il futuro. Buongiorno Stefania, eccomi. Sto per fornirvi le previsioni meteo per i prossimi sette giorni della settimana. Ti anticipo che dal numero dei dati ricevuti, l'algoritmo di assimilazione ha garantito una copertura globale del 97.43% su tutti i parametri atmosferici. Decisamente un buon risultato. Ancora un attimo. Ecco, ho individuato una situazione significativa. Martedì prossimo, 25 ottobre, l'atmosfera si presenterà con caratteristiche di elevata ciclogenesi sul Mediterraneo centro-meridionale. Siamo sullo stretto di Sicilia, dove sarà presente un intenso ciclone extra-tropicale. L'attendibilità oscilla tra il 71.15% e il 78.50%. Attraverso il sistema di post-elaborazione grafica, vi mostro la caratteristica forma a spirale e il classico occhio del ciclone tra le nubi che ruotano vorticosamente. Sovrappongo il campo di pressione, che è piuttosto marcato, e mette in luce la corrispondenza tra minimo valore di pressione e centro della struttura ciclonica. Ti presento anche una visualizzazione tridimensionale della struttura verticale di questo intenso ammasso nuvoloso. Vista la situazione che ci hai descritto, il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare ha già provveduto ad allertare i centri di protezione civile nazionale, attivando le consuete procedure. Sono certa che sarai mandando continui aggiornamenti degli output disponibili. Confermi? Certo, in tempo reale. Bene, le autorità competenti stanno quindi già ricevendo gli aggiornamenti, valutati e controllati anche dal nostro personale esperto. Come abbiamo visto dal nostro sistema di calcolo la giornata più significativa dei prossimi sette giorni sarà martedì prossimo, con tempo perturbato principalmente al sud. Le regioni coinvolte sono la Sicilia e la Calabria, previsti venti molto forti, con raffiche anche oltre 120 km orari, associati a temporali localmente molto intensi e precipitazioni abbondanti che si attestano intorno agli 800.000 mm in 24 ore, quantità elevate. Già dalla tarda mattinata, in modo più attenuato, i fenomeni interesseranno velocemente anche la Campania Meridionale, la Basilicata e successivamente, nel pomeriggio, la Puglia. Sottolineo che non è una condizione meteorologica straordinaria. Che cosa mi dici Leonardo, i tuoi archivi che cosa mostrano? Sì Stefania, c'è un contrasto tra il tempo che stai descrivendo e ciò che abbiamo registrato negli ultimi mesi. Dai miei archivi risulta che le piogge intense in arrivo interrompono una prolungata fase estiva caratterizzata da alcuni brevi episodi di pioggia di scarsa entità e durata. Le regioni che hai citato hanno sofferto di questa siccità. Martedì, in poche ore, arriverà la quantità di acqua che non si è registrata in questi mesi. Grazie Leonardo. Allardiamo ora lo sguardo alla situazione meteorologica su tutta la penisola, prevista per la giornata di martedì prossimo. Sulle regioni settentrionali, centrali e in parte della campagna il tempo sarà variabile con nuvolosità a tratti intensa associata a frequenti ma brevi piovaschi. Il fenomeno significativo sarà ancora il vento, in particolare sulle zone costiere adriatiche, che espirerà prevalentemente dai quadranti orientali con intensità moderata ma localmente anche forte. Per la zona lagunare di Venezia sono previste condizioni favorevoli per l'acqua alta e anche in questo caso stiamo allertando le autorità competenti, vero? Sì, a Venezia hanno già previsto l'attivazione dei sistemi di contenimento delle acque dell'Adriatico nelle giornate interessate, al fine di mitigare gli effetti di questo fenomeno. Le immagini che vedete si riferiscono a episodi accaduti fino al secondo decennio di questo secolo e mostrano come il fenomeno dell'acqua alta fosse intenso e frequente. Bene, passiamo ora ad un altro aspetto delle previsioni. I nostri aspetti di space weather ci segnalano nelle prossime ore una tempesta geomagnetica con possibile degradamento della qualità delle trasmissioni radio, dei sistemi di comunicazione e dei sistemi di posizionamento GPS. L'Aeronautica Militare ha trasmesso agli organismi nazionali di telecomunicazione e gestione del traffico i parametri di correzione utili a compensare le eventuali degradazioni attese. Quindi nessun problema per i cittadini che si troveranno in viaggio in questi giorni. Passiamo ora al nostro servizio per le energie rinnovabili. Per una ottimizzazione del rendimento energetico è consigliata l'attivazione dei sistemi di produzione di energia eolica domestica. Questa settimana il rendimento sarà elevato per le condizioni meteo attese, specie al sud. Al nord saranno i sistemi fotovoltaici ad essere favoriti. Le ore di soleggiamento saranno superiori a quelle medie del periodo. Buono il livello di produzione di energia cimoelettrica generata dal moto ondoso, previsto questa settimana al sud. Ricordiamo che tutte le immagini e i dati raccolti ed elaborati dall'Aeronautica Militare sono disponibili sulla nostra piattaforma virtuale. Saluto il nostro ipercomputer Leonardo. Ciao Stefania. Vi aspetto al prossimo appuntamento con il meteo. Questo è tutto, grazie per l'attenzione, buona giornata. As you have just seen, climate change will increasingly affect our day-to-day weather. But we don't have to wait until 2050 to witness its impact. Already today, many parts of the world are experiencing more intense rainfall, floods, storms, heatwaves, droughts. We need to minimise these negative impacts. And the best way to do that is to rapidly and significantly reduce our emissions of carbon dioxide and other greenhouse gases. But at the same time, because the planet is already committed to a significant amount of warming, we must also learn to adapt to changing climate conditions. We need to build greater climate resilience, designing our cities and preparing our societies to cope better with extreme weather events. We need to further reduce disaster risk, in particular through improved early warning systems, informing people and the authorities about how to take effective action to protect their families and livelihoods from all major hazards, including cyclones, storm surges, floods, droughts and temperature extremes. We also have to expand the scope of today's weather services by developing climate services that help people to understand and respond to current and future climate vulnerabilities. The scientific message is clear. The more we reduce greenhouse gas emissions, the less we shall have to do to adapt, and the less costly it will be. Let's work together to ensure a safer and sustainable future for current and future generations. Thank you.